Quali sono le prospettive future del progetto Grandi Ospedali? Quali sono le strade su cui si muoverà questa iniziativa? Questa è un'iniziativa che davvero sta coinvolgendo tutti, sta coinvolgendo operatori primari. È un'iniziativa che porta a un confronto, un confronto su tematiche che si sentono e che nascono dal basso. Quella anche di un confronto tra la ricerca, gli universitari e quella che è un'operatività maggiore, quella che si verifica per esempio negli ospedali che sono prettamente orientati verso l'emergenza, urgenza. È un progetto che può solo accrescere e portare del bene a quelli che sono i processi innovativi che si stanno verificando in sanità.